Modificato lo statuto della regione, la Toscana prima in Italia, a disciplinare i beni comuni e a favorire la partecipazione dei cittadini per la loro tutela. Modificato il testo unico sul turismo, individuati i 28 nuovi ambiti omogenei per la promozione dei territori, sospeso il rilascio dei patentini per guida turistica. Difensore civico regionale, apprezzamento per le attività del 2017, ma ancora poco conosciuto al di fuori dell'area fiorentina. La Toscana ha compiuto un passo fondamentale e lo ha fatto grazie ad una legge presentata dal sito Toscana Sinistra che si è fusa assieme ad una legge della maggioranza. Inseriamo per la prima volta nella nostra norma statutaria, quindi nella Costituzione della regione, il riferimento ai beni comuni. Ora, nella scena pubblica i beni comuni sono emersi, si può dire nel dibattito del Paese con il referendum del 2011 contro la privatizzazione dell'acqua. Si è detto appunto l'acqua è un bene comune fondamentale, lo è la biodiversità, lo sono i beni archeologici e paesaggistici e sono i beni comuni in senso altro, cioè quei beni che appartengono all'intera collettività e che quindi non possono essere appropriati privatamente da nessuno. Poi esiste una dimensione di beni comuni diffusa nei territori, lo vediamo tutti nella nostra regione, quante comunità si prendono cura di un giardino che è stato abbandonato e che viene reso all'uso di tutti o di uno stabile che è stato abbandonato e in degrado e un pezzo di collettività lo riutilizza, gli dà nuove funzioni, gli orti urbani, cioè esiste una dimensione di beni che vengono tutelati e curati dai cittadini che si auto-organizzano. Quindi bisogna valorizzare questo tipo di iniziativa, si tratta di risorse condivise, io dico bisogna capovoggere il famoso detto Ubi Major Minor Cessat, il principio deve essere Ubi Minor Minor Cessat, cioè là dove c'è una comunità di cittadini che si prende cura di un bene, allora l'istituzione e a maggior ragione i soggetti privati che ci vogliono fare il profitto devono fare un passo al lato e si deve permettere a questa comunità di tutelare e curare quel bene. Il nuovo Statuto della Regione Toscana pone quindi l'accento sui beni comuni e lo fa in attuazione di un principio fondamentale della nostra Carta Costituzionale, principio introdotto dalla Legge Costituzionale 3 del 2001, nell'articolo 118 della Costituzione, il principio della sussidiarietà orizzontale che sviluppa percorsi partecipativi di collaborazione tra i cittadini, le formazioni sociali e i pubblici poteri. Anche lo Statuto della Regione Toscana ha recepito nell'articolo 58 questo principio e oggi finalmente con questa proposta di legge che è diventata legge che ha modificato lo Statuto della Regione Toscana si dà attuazione al principio della cittadinanza attiva, cioè della collaborazione fattiva dei cittadini per la realizzazione di interessi di carattere generale. Ci siamo astenuti perché nonostante abbiamo più volte più volte richiesto che vi sia una chiarezza riguardo tra beni comuni, beni pubblici, beni privati, questa chiarezza ad oggi non c'è stata, quindi non ravvisiamo tutta questa necessità di un inserimento della tutela e della valorizzazione dei beni comuni nello Statuto della Regione Toscana. Crediamo che la nostra Regione meriti battaglie molto più importanti su tanti argomenti. Ci viene oggettivamente da pensare quando si parla di principi di sussidiarietà. Per la Lega la sussidiarietà è tornare a veramente investire sul regionalismo differenziato, ecco il centro della nostra mozione che abbiamo portato per l'apertura di un tavolo tra il Consiglio e la Giunta. Per quanto riguarda i beni comuni invece non ravvisiamo l'utilità, anzi siamo piuttosto scettici e invitiamo alla prudenza per quanto riguarda la gestione di questi beni comuni, quelle future forme di collaborazione che è stato fatto scenno in Aula. Quindi la nostra posizione è chiara, una astenzione rispetto a quella che consideriamo una vera e propria astruseria sinistra. La legge dei beni comuni abbiamo votato a favore e riteniamo importante, ecco questo recepimento e modifica statutaria. La nostra perplessità rimane soprattutto sul fatto che a livello nazionale non è stata recepita la legge sui beni comuni e sappiamo bene che se il recepimento nazionale è difforme da quello regionale bisognerà fare un'altra modifica. Però credo che sia stato un recepimento adeguato soprattutto nelle definizioni dei beni comuni e della cittadinanza attiva. Noi abbiamo introdotto una serie di modifiche al testo unico del turismo regionale che approvammo nel dicembre del 2016. Modifiche che vanno tutte nel senso del rafforzamento della competitività delle imprese, quindi nel concedere nuove possibilità dal punto di vista operativo sia agli alberghi che alle strutture ricettive all'aria aperta. Ad esempio potranno aprire centri benessere rivolti anche ai non alloggiati, ovviamente con la presenza delle professionalità e dei locali adeguati. Diamo la possibilità invece di poter fare sauna e bagni turchi solo ai non alloggiati, scusate agli alloggiati anche senza la presenza dell'estetista perché in quel caso è sufficiente un responsabile della sicurezza e una segnaletica sul corretto utilizzo delle attrezzature. Quindi leviamo burocrazia, miglioriamo l'albergo diffuso, sistemiamo l'articolo sulle locazioni turistiche che tanto ci aveva fatto discutere in passato. Ricordo che nel luglio del 2017 il governo si è assunto la responsabilità, il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà normare il tema dell'esercizio in forma imprenditoriale delle locazioni turistiche che è esattamente il tema che noi avevamo cercato di affrontare e che poi il governo ha impugnato. Quindi il fatto che dicano di occuparsene significa che la Toscana aveva fatto bene a mettere sul piatto, ad assumere un'iniziativa che speriamo sia anche anticipatrice del fenomeno, del tema che riguarda molto le grandi città d'arte ma non solo. Affrontiamo e sciogliamo alcuni nodi sulle professioni turistiche, sapete anche voi di questa grande pressione che c'era sui corsi di formazione per guida turistica in Toscana e noi li sospendiamo per un anno perché la Toscana è l'unica regione che faceva questi corsi. Secondo noi, ispirati dalla cultura liberale perché alle professioni si deve poter accedere, il problema è che lo sta facendo solo la Toscana perché le altre regioni hanno bloccato nell'attesa e il governo non stabilisce qual è il profilo professionale della guida turistica. Quindi questo da sponda alle regioni che vogliono tenere tutto fermo, in Toscana i corsi sono andati avanti, noi abbiamo deciso di sospenderli, fra un anno riaffronteremo il tema. Non sospendiamo invece la possibilità per le guide dell'estensione linguistica, quindi chi ha già l'abilitazione e vuole aggiungere una lingua al proprio corredo potrà farlo con esame però. Noi abbiamo normato per primi, per arrivare primi come al solito in Toscana vogliono fare i fenomeni e le guide turistiche ovviamente sono state scontentate tutte. Si è generato una cosa ridicola che ci ha fatto andare su tutti i Tg nazionali nonché sui servizi delle Iene dove si evidenziava che da tutta Italia venivano qui a fare i corsi per diventare guide turistiche. In Toscana un patentino non si nega a nessuno, da tutte le parti vengono e non solo vengano con dei testi di esami abbastanza ridicoli, ve li ho fatti anche a voi, vi darò una tessera anche a voi, tanto qui le danno tutti, le tessere in Toscana le avrete anche voi della stampa, sono convinto che potete farcela a fare questi esami sicuramente. Inoltre questo patentino limita chi ce l'ha già, che ha una limitazione territoriale a un ambito locale, mentre chi le prende da ora con questi esami farsa lo può fare a guida turistica in tutto il territorio nazionale. Capite che questo ha generato un problema con tutte le altre regioni, con tutte le altre iscritte diciamo nelle guide turistiche. Quindi questa farsa che oggi ovviamente ho voluto sottolineare con un dai una tessera anche te, perché si parla di questo, dai una tessera di guida turistica anche te, penso che oggi si debba concludere. La regione Toscana ha bisogno di un turismo strategico, sostenibile, innovativo e digitale ed oggi con il testo unico sul turismo e le sue modifiche non c'è nulla di tutto questo, anzi una riforma molto burocratica che complica l'attività delle imprese e non risolve il problema della qualità e della standardizzazione qualitativa, della promozione e anche e soprattutto dell'informazione dell'accoglienza turistica nella nostra regione. Non possiamo pensare che questo ruolo così importante, dove ci si mette tutti la faccia, è un'attività che riguarda il brand toscano, questa attività di informazione e accoglienza non la possono fare i comuni che non hanno soldi, non hanno risorse e nemmeno gli strumenti per svolgere un'attività così importante. Guardate, il Veneto, che è la prima regione in Italia per turismo, si è presa il compito di individuare delle linee guida, di standardizzare e assicurare una qualità minima per l'attività di informazione e accoglienza turistica che viene fatta insieme ai comuni, insieme ai comuni, ma non demanda ai comuni questa attività così importante. Allora, se vogliamo farlo fare ai comuni che ci si mettono delle risorse, ma noi preferiamo che la regione rivendichi il suo ruolo di indirizzo omogeneo della nostra regione perché ci sia un brand unico toscano che deve essere allacciato al brand Italia. Noi non dobbiamo smarrire la promozione della Toscana nel suo complesso perché è un marchio potentissimo nel mondo, ma il marchio toscana esiste se non si scordano le vocazioni locali, le identità territoriali, che queste però a loro volta non possono essere frantumate nella singola municipalità. Quindi l'informazione e l'accoglienza che i comuni potranno continuare a svolgere chiediamo di farla con convenzioni sovracomunali dentro questi ambiti. Gli ambiti sono 28, si va dalla Versilia all'isola d'Elba, dalla costa degli Etruschi alla Miata, le terre di Siena, la Maremma, distinta in due ambiti sud e nord. Aggiungo solo, per la prima volta ci sono ambiti sovra provinciali, il Chianti che esisteva nell'immaginario collettivo non sarà più Chianti Senese e Chianti Fiorentino. C'è il Chianti e i comuni appartenenti alle due province potranno convenzionarsi e lavorare insieme su queste cose. Stesso dicasi per la Miata, la Miata Grossetana e la Miata Senese fanno parte dello stesso ambito. Io credo che questo sia un fatto molto importante perché questi territori potranno raccontarsi insieme senza far capo a province diverse come accadeva in passato. E questo diventa anche uno strumento di promozione molto importante. La Lega ha votato contraria perché riteniamo che il turismo sia veramente la risorsa primaria della regione toscana e ci sembra che questa legge ha qualche aspetto negativo, però neanche tanti critici. In particolare ci riferiamo al discorso degli ambiti territoriali che hanno suddiviso la Toscana in 28 ambiti territoriali e devono fare i comuni delle convenzioni. All'interno dello stesso ambito la maggior parte dei comuni deve aderire per avere questa convenzione. Poi parlano anche di ambiti contigui dove i due terzi dei comuni di ogni ambito devono fare la convenzione. Ci sembra una questione burocratica che non si sa a che cosa porterà. Riteniamo che sia giusta la previsione di alcuni ambiti per svolgere funzioni associate da parte dei comuni rispetto all'accoglienza, rispetto all'informazione. Quindi se la promozione deve essere fatta a livello regionale queste funzioni devono stare vicine al territorio. Non la può fare il singolo comune perché non ha la possibilità, la forza per poterlo fare, però degli aggregati simili alle vecchie province possono invece svolgerlo in maniera proficua. Noi avevamo proposto degli emendamenti per fare in modo che la cabina regionale, che crediamo sia un'altra previsione importante, che deve dare gli indirizzi fondamentali rispetto alle strategie sul turismo, fosse più inclusiva. Che fossero mantenuti alcuni elementi presenti fino ad oggi nella legge, che limitavano meno l'accesso a questa cabina rispetto alle organizzazioni sindacali, rispetto alle organizzazioni delle associazioni dell'agroutilismo, rispetto ai vari soggetti in campo. Noi pensiamo che in questo caso sia meglio avere magari una cabina più larga e più ampia, però più rappresentativa e più vicina alle stanze del territorio. Questo è il motivo per cui comunque ci siamo astenuti, non abbiamo votato a favore della legge, dato che la maggioranza ha ritenuto di bocciare questi emendamenti che avevamo proposto. Personalmente io mi sono astenuta perché ci sono degli articoli che ho condiviso, per esempio quello che riguarda l'informativa sull'accessibilità allargata anche agli stabilimenti balneari, quindi questo è molto importante. Oppure l'apertura per quanto riguarda tutte le postazioni turistiche e anche di attività di centro benessere aperte anche all'esterno, garantendo però comunque che sia la struttura che le professionalità siano le stesse previste dalla normativa vigente. Ho però dei dubbi quando le stesse postazioni turistiche possono offrire anche attività di sauna e bagno turco perché lì non è prevista nessuna professionalità ma soltanto una cartellonistica e comunque una non ben specificata vigilanza e su questo io essendo proprio un operatore addetto alla vigilanza anche di queste strutture ho diversi dubbi. Il nuovo difensore civico della Toscana, il dottor Sandro Vannini, ha relazionato prima dinanzi alla prima commissione e poi mio tramite anche in consiglio regionale l'attività che il difensore civico regionale ha svolto nel 2017. Una situazione particolare perché Sandro Vannini è da poco Presidente, è da poco difensore civico regionale e quindi l'attività del 2017 è stata condotta dalla dottoressa Franchini. L'occasione è stata importante per chiarire alcuni aspetti. Innanzitutto la mancata conoscenza che c'è nel territorio regionale della tutela civica regionale. Singolare che ci siano molti procedimenti all'incirca 2000 all'anno che vengono affrontati dal difensore civico regionale, ma che non ci sia stato un incremento di questi procedimenti con il venir meno delle forme di tutela civica a livello locale. Questo significa che il difensore civico regionale ancora non è molto conosciuto in molte province della Toscana, è più percepito per certi versi come un difensore civico della zona metropolitana di Firenze e quindi è emersa la necessità di sviluppare una campagna istituzionale informativa che faccia conoscere ai cittadini toscani in maniera importante i vantaggi che possono derivare dal ruolo che svolge il difensore civico regionale. Ci sono poi due settori particolari nei quali la tutela civica regionale sta emergendo con forza, da una parte il tema del settore idrico e dall'altra quello della tutela della salute nel quale tra l'altro il difensore civico regionale svolge anche l'importante funzione di garante per la salute così come previsto dal legislatore statale con la legge del 2017. L'unico appunto che ho rilevato è che siccome il difensore civico è intervenuto principalmente in diatribe fra cittadini ed enti quali l'autorità idrica toscana e la sanità, il mio appunto è stato quello appunto che come regione e come consiglio a questo punto credo che sia necessario intervenire direttamente sull'attività di questi due enti che se trovano proteste da parte dei cittadini probabilmente è il caso di rivedere proprio l'attività delle stesse. Abbiamo votato a favore perché di fatto è una relazione sull'attività del precedente difensore civico del quale abbiamo ammirato il lavoro, abbiamo seguito con attenzione il lavoro è stato veramente per noi importante sentire dal difensore civico che si fa poco per i toscani in quanto tali. Oggi ci sono tante aggettivazioni, invece occorrerebbe maggiore tutela per il toscano in quanto tali per il toscano diciamo della strada, questo è quello che chiede il difensore civico e noi siamo su questa strada. Per questo torniamo anche a insistere per quanto riguarda la richiesta di una figura unitaria di tutela, non più il garante per i detenuti e il garante per l'infanzia e il difensore civico, una figura unitaria sul modello lombardo che è stato citato addirittura dal presidente della commissione Bugliani come esempio di massima efficienza. Evidentemente se funziona in Lombardia una figura unitaria non vediamo perché non debba esserci anche in Toscana. Ci viene detto che ci sarebbero degli ostacoli di carattere normativo, bene, la Lega anche in Parlamento è decisa a far sì che possa arrivare in tutta Italia, in tutte le regioni a una figura unitaria. Per una tutela dei diritti non occorrono più figure, occorrono più risorse. Noi suggeriamo un incentivo, un aumento di risorse proprio per andare a coprire tutta la regione, il nord, gli estremi che vengono esclusi e comunque non riescono a arrivare a Firenze per poi presentare. Quindi ci auguriamo che si venga potenziato questo. I propositi sono molto positivi secondo noi, le proposizioni anche in vista di recepire quello che è il difensore europeo. Noi ci batteremo insieme al difensore civico e mi auguro anche con la regione toscana perché finalmente a livello nazionale si recepisca una legge che definisce il difensore civico perché oggi non c'è. Volevo anche sottolineare un'altra cosa, il fatto di difesa civica e tutela, a oggi in regione toscana non c'è ancora un garante dell'infanzia. Noi abbiamo sollecitato più volte, la nostra azione andrà ancora con più forza a spingere l'ufficio di presidenza a fare questa nomina. Sono più di tre anni che in Toscana non c'è il garante per l'infanzia con tutte le problematiche collegate. Grazie.